Pronti per il fischio arbitrale, si inizia. Primo possesso di palla, quindi per la formazione alto tesino. La fase di contropiede per la formazione del Briggsene che triplica con Muratovic. La fase di contropiede per la formazione del Briggsene. La fase di contropiede per la formazione del Briggsene su Tirol.